Un sistema innovativo per il recupero della plastica in mare, come funziona? Il Sibin è un aspirapolvere del mare in pratica, lui grazie a una pompa d'immersione che filtra 25.000 litri di acqua all'ora crea una corrente che attira tutti i detriti galleggenti che ci sono nello specchio acqueo circostante all'interno di un cestino che li trattiene, quindi trattiene sacchetti, bottiglie di plastica, mozzicone di sigaretta, plastiche varie. Quello che la nostra azienda ha visto in questa tecnologia che è innovativa è che è in grado anche di filtrare tutta quella parte di microplastiche che sfuggono un po' ai sistemi tradizionali di raccolta dei detriti galleggianti, perché la maglia di questo cestino è sufficientemente fine per trattenere anche le microplastiche fino a 2-3 mm. È un cestino che può funzionare autonomamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e chiaramente deve essere seguito dal personale che quando vede che il cestino è pieno e colmo di rifiuti spegne il Sibin, toglie il cestino e differenzia quello che ha trovato come la normativa lo richiede.